Ancora ben ritrovati i gentili telespettatori per questa edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia e se ne è parlato moltissimo in questi giorni di abolizione, di possibilità, di opportunità per quanto riguarda i voucher. Sentiamo cosa ne pensa l'onorevole Seracchiani, Presidente della Regione. Presidente, oggi in aula al Consiglio regionale è stata approvata la legge attiva a giovani. Sì, un risultato davvero molto importante. Un risultato importante che mette a disposizione dei nostri giovani uno strumento in più per cercare di riqualificarsi e trovare lavoro. Stiamo parlando soprattutto di quei ragazzi che non vengono già interessati dagli strumenti ordinari come i tirocini formativi o gli stage oppure contratti a tempo determinato attraverso la garanzia giovani. Questi sono ragazzi che possono avere maggiori difficoltà per una disoccupazione cronica o per una qualificazione che devono migliorare. Quindi parliamo a questi ragazzi e cerchiamo davvero di tirarli fuori casa per dare loro la possibilità di un lavoro. In più abbiamo previsto nell'attiva giovani anche lo strumento per i cosiddetti voucheristi intensivi. È vero che lo strumento è stato abolito a livello nazionale ma a maggior ragione adesso serve poter intervenire in quei casi nei quali appunto il voucher veniva utilizzato in modo intensivo e quindi permettere stabilizzazioni e regolarizzazioni di rapporti attraverso anche un incentivo regionale. È stata approvata al contempo anche una mozione che chiede di riempire il vuoto lasciato dalla borrogazione dei voucher. Sì, oggettivamente noi dobbiamo creare le condizioni perché il lavoro cosiddetto occasionale, il vero lavoro occasionale, i cosiddetti lavoretti che prima riguardavano solo l'agricoltura o il lavoro domestico possano trovare in qualche modo un riconoscimento o anche una regolarizzazione. L'alternativa rischia di essere il lavoro sommerso e chiaramente non possiamo permettercelo. Per cui chiediamo al Governo e la Giunta si è impegnata in questo senso di trovare strumenti che possano regolamentare il lavoro occasionale, anche ad esempio il lavoro a chiamata però con semplificazioni che permettano ovviamente di mantenere forti i controlli ma allo stesso tempo di dare possibilità ai lavoratori e alle imprese di avere strumenti utilizzabili. È stato licenziato senza preavviso, i B, queste le sue iniziali, 43 anni di Aiello, impiegato dell'ARPA con sede a Palmanova, in seguito ai riterati furti commessi sia ai danni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sia dai colleghi di lavoro. I carabinieri di Palmanova hanno smascherato e quindi è scattata l'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che è avvenuta lo scorso martedì. Il provvedimento disciplinare è stato assunto lunedì dall'ARPA Fiori Venezia Giulia attraverso il relativo decreto firmato dal direttore generale Luca Marchesi. Quanto commesso dall'uomo alla luce delle indagini condotte appunto dai carabinieri di Palmanova va oltre un semplice provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa avendo violato alla radice il rapporto fiduciario e la stessa immagine dell'Agenzia regionale. Insomma nessun sconto di fronte ad un comportamento che chiama in causa più aspetti e principi trattandosi di un dipendente, di un ente pubblico e che come tale ha di fatto sfruttato la sua posizione e il ruolo professionale. E continua ancora quella che è l'avvicinamento alle elezioni amministrative che ci saranno l'11 giugno. Bene ai nostri microfoni un'intervista a Rodolfo Ziberna il candidato sindaco alla città di Gorizia. Sentiamo. Io volevo sottolineare uno slogan che penso sia lo slogan anche della campagna elettorale innanzitutto Gorizia. Pensando a Gorizia e vedendo un po' quelli che sono stati gli ultimi interventi in questo periodo anche come candidato sindaco al primo posto c'è il lavoro. Parliamo allora di lavoro. Sì perché io credo davvero che al di là di tutto ci sono tante cose naturalmente il nostro programma ricco, fitto è un programma fatto con il cuore oltre che con le competenze e con l'intelligenza. Però il primo noi possiamo aumentare quanto turismo vogliamo, quanti grandi eventi possiamo riqualificare la città quanto vogliamo però se non abbiamo un numero di stipendi adeguati cioè persone che siano in grado di portare danaro non due giorni al mese o tre giorni al mese ma tutto il mese e per tutto l'anno non riusciremo mai a far risalire in termini di possibilità economiche nella nostra città. Ecco perché al primo punto senza dubbio per noi c'è il lavoro e il lavoro non in modo generico, certamente le competenze in tema di lavoro sono prevalentemente statali e regionali, un comune se uno stato non ha una bacchetta magica una regione neppure tanto meno ovviamente il comune perché non ha al di là delle risorse non ha proprio le competenze però noi punteremo innanzitutto su due grandi, in due grandi ambiti a nostro avviso potentissimi il primo, la nostra speranza è quella di dare corpo a Gorizia e alla Zese che è una zona franca speciale non è una zona nuova, è una zona che è stata prevista nei trattati di adesione della Slovenia e dell'Unione Europea perciò comunque sono già fisicamente presenti, i rapporti con la Farnesina ci sono stiamo incalzando e anche da parte slovena si sta incalzando il nostro governo naturalmente dobbiamo ottenere i placet da parte dell'Unione Europea ci sono più di 76 zone franche in Europa, più di 2.700 in tutto il mondo perciò noi crediamo che ci sono le condizioni per creare qui a Gorizia a cavallo del confine tra Gorizia e Nova Gorizia perché è quello che noi intenderemo proporre all'Unione Europea per avere certezza dei confini e proprio i confini del GECTE che è un gruppo europeo di cooperazione territoriale, il cosiddetto GECTE ce ne sono una ventina in tutta Europa che l'Unione Europea individua e ha definito faro, cioè il miglior esempio di GECTE in tutta Europa forti di questa capacità, forti di questa esperienza noi candidiamo perciò il nostro territorio il territorio del GECTE, Gorizia, Schempeter-Vertoiba e Nova Gorizia a essere contenitore territoriale appunto di questa zona franca, una zona franca destinata ad attrarre capitali ovviamente extraeuropei per non fare la concorrenza, del resto l'Unione Europea non lo consentirebbe, capitali extraeuropei destinati perciò a creare opportunità imprenditoriali nella nostra città e nelle città oltre confine e pertanto anche grandi opportunità occupazionali e l'altro aspetto tra i tanti altri che useremo, tante altre leve che useremo per produrre, creare opportunità occupazionali a Gorizia è il polo aeroportuale, l'aeroporto di Merna è un aeroporto interbattuto per il volo ultraleggero in via Trieste a Gorizia fra pochissimo riepirà i imbattenti, dopo un lungo excursus, dopo un calvario primo in Italia una convenzione particolare tra il Comune e le istituzioni nazionali competenti finalmente riapriremo i battenti, si tornerà a volare adesso ha già preso piede e si sta insediando, ha finito in pratica le opere strutturali un'impresa, la Pipistre Slovena, ma al netto di questa presenza noi contiamo visto le manifestazioni di interesse che ha suscitato il nostro sedime in Italia e all'estero contiamo di poter attrarre diverse aziende legate ovviamente all'attività aeroportuale nella nostra città e poter produrre alcune centinaia di posti di lavoro che per la nostra città sono naturalmente tanti Il Friuli Venezia Giulia può contare su un nuovo programma per contrastare la disoccupazione giovanile e il fenomeno di chi abbandona la scuola oppure l'università senza poi nemmeno cercare un impiego Il Consiglio regionale infatti ha approvato la legge attiva giovani che mette in campo un paniere di interventi complessivo da 5 milioni di euro 4,5 in tre anni per la disoccupazione giovanile, tout court e 500 mila per ovviare alla cancellazione dell'istituto dei voucher decisa dal governo che si affianca ai programmi già attiva da anni La misura approvata ieri da Piazza Oberdam si rivolge a quei soggetti di edà compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti che nei 12 mesi precedenti non abbiano svolto un'attività lavorativa e nemmeno sul fluido di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio La platea dei cosiddetti NET, NOT in Education, Employment or Training in Frui Venezia Giulia è di circa 27 mila ragazzi, comunque in calo di mille unità rispetto al recente passato stando appunto ai dati Istat Adesso torniamo in regione, abbiamo un'intervista di Lauro Nicodemo a De Fez la quale ci parla di biotecnologia, una biotecnologia secondo questo professore che permette di produrre un ottimo mais, sentiamo Dottor Roberto De Fez del CNR di Napoli è tra i più illustri ricercatori sull'OGM a livello italiano oggi il convegno ricerca scientifica ed agricoltura abbiamo sentito nelle relazioni grandi difficoltà di rapporto e soprattutto di capire, di far capire alla politica la ricerca italiana, eravamo i primi fino al 2015 oggi a che punto è la situazione? Allora intanto io vengo a Vivaro perché Vivaro è il posto che ha cambiato lo scenario della politica sulle biotecnologie in agricoltura in tutto il paese, non è un luogo periferico, non è un luogo esotico è il luogo dove gli agricoltori hanno spiegato alla politica qual è la realtà della situazione in agricoltura e gliel'hanno spiegata a partire dal 2006 di fatti oggi coltiviamo la metà del mais che coltivavamo nel 2006 non solo significa importare sempre più mais dall'estero in parte anche mais OGM noi importiamo perché non è vietato l'importazione di mais OGM ma oltre al fatto che perdiamo soldi perdiamo aziende soprattutto perdiamo tecnologia e produciamo un mais qualitativamente piuttosto scadente quindi la reazione della base è esattamente questa di dire noi vogliamo diminuire gli insetticidi aumentare la quantità di prodotto e aumentare la sanità la sicurezza alimentare per gli esseri umani Può essere considerato dal punto di vista strategico questo mai sottoutilizzato di non buona qualità che poi alla fine va a finirle nelle biomasse? è esattamente il contrario il mais di provenienza estera quindi in parte OGM si paga di più del mais italiano e si paga di più perché la qualità è superiore perché ha meno tossine tossine che sono dannose soprattutto per l'allevamento zootecnico quindi è esattamente la situazione opposta siamo noi che mandiamo in biomasse un mais scadente e invece per l'alimentazione scegliamo mais e soprattutto soia geneticamente modificati e cosa possiamo dire rispetto ai regolamenti disciplinari di vari prodotti esempio prosciutto di San Daniele di Parma l'87% di tutti i mangimi venduti in Italia contiene OGM per fare tutti i tipi di prodotti possibili e immaginabili latte, formaggio, grana insaccati di tutti i generi quindi non esiste il problema quasi tutta la zootecnia italiana è basata su mangimi OGM non c'è nessun problema sanitario o zootecnico alimentare gli animali con OGM la follia di questa storia è che se li fanno in Argentina vanno bene se li dovessero fare a Vivaro invece non vanno bene per fare i prodotti tipici italiani allora è chiaro che c'è un delirio su questa storia tutti lo conoscono tutti sanno che va in questo modo nessuno mette mano a rimediare questa follia andiamo adesso a Pordenone non soltanto ragazzi giovani e pakistani a Pordenone i richiedenti asilo sono per lo più uomini la maggior parte dei quali non supera i 40 anni ma non ci sono soltanto loro tra i nuovi arrivi in città in questura si è presentata anche una famiglia padre, madre e due figli minorenni una ragazzina a 12 anni e un bambino di appena un anno anche loro hanno chiesto asilo sono arrivati dalla Germania in treno in tasca hanno qualche centinaia di euro che pian piano sta diminuendo soprattutto per pagare il cibo ieri si sono recati in questura dove è stato dato loro un appuntamento per la prossima settimana nel frattempo devono arrangiarsi come possano ed è in questo contesto che si inserisce una gara di solidarietà la Croce Rossa che sta svolgendo sul territorio un'opera di monitoraggio e di aiuto non soltanto a chi dorme al Bronx ma intercettando le necessità anche di chi sta altrove ha individuato questa famiglia lunedì sera dal racconto del capo famiglia il loro arrivo a Pordenone sarebbe risalito a qualche giorno prima un paio di notti le hanno trascorse per strada poi appunto l'incontro con la Croce Rossa e l'aiuto economico per trascorrere un paio di notti in albergo ieri sono dovuti uscire e hanno trovato un riparo alla Caritas dove sono rimasti fino all'orario di chiusura poi nuova gara di solidarietà attraverso due volontari della Croce Rossa che di tasca loro hanno pagato altre due notti in hotel pur prenotando quattro notti e con questa ultima notizia Gentili e telespettatori finisce il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana